Caterina Vermilio, moglie di Valerio Vermilio, candidata nazionalitaniana che torna a quella società, funziona? Sì, è sempre funziona. Cosa ti ha raccontato? Sì, è stato molto felice di essere qui perché è stata un po' la mia famiglia che non troppo lì ce l'avevo piantando. Ma la passione e l'orgoglio di essere qui vedete sempre questa esperienza meraviglia. E per lei che è la moglie, sono più così alla città natale. Per me è un donore essere qui accolta in questa maniera nella città di mio marito. Per me è un tipo di accoglienza per me. Sempre bene. Sempre bene. Fiscata, invasione alla Bulgaria e al Sud, come a Bulgaria? Beh, se le strade, come dovessero fare, le strade spiegate. È un fatto di qualità perché non saremmo pronti.